Si chiama John R. Graves, è un uomo di 34 anni di età il quale, pensate che, è entrato con il suo sub all'interno di una sala operativa della polizia. L'uomo non si è accorto quasi di nulla, infatti aveva la musica dei Guns N' Roses a tutto volume nel suo veicolo. Si è schiantato contro questo ufficio della polizia, il conducente però è rimasto illeso, è desceso dal veicolo, è alzato prima del cielo. Dimostrando di non avere alcun tipo di fine minaccioso o di attentato o di avere armi E un policente polizia gli ho detto di chiudere la portiera, di seguirlo, poi ha perso un altro poliziotto più anziano Che in qualche maniera era rimasto molto molto incredibile, pure John diciamo che è piombato con il suo sub enorme e gigantesco E ovviamente è stato arrestato, è accusato di ben 10 capi di imputazione d'accusa Prima di andare a finire contro la sala operativa della polizia Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi utente di Youtube Iscrivetevi e commentate